Fatemi arrivare le notizie del giorno, eccoci qua, siamo pronti. Bentornata direttrice. Grazie. Carlo Pucca, bentornato anche a te. Tornato, torna senza ben. Allora, Rita vediamo qual è la prima notizia del giorno, posso immaginare. Ecco, Meloni lascia Gian Bruno dopo i fuori onda, la mia relazione finisce qui. Difenderò nostra figlia Ginevra. In apertura ne abbiamo parlato con Luisella Costamagna, lo facciamo anche con te. Poi quando finiscono queste relazioni, si ha un ruolo pubblico, bisogna anche pubblicamente raccontare poi quello che è successo e dire anche la parola fine con un posto. Sì, posso immaginare quanto le sia costato appunto divulgare con un posto un aspetto così delicato della sua vita privata. Però è chiaro che siamo in una società mediatica e parliamo di un presidente del Consiglio, di un politico. Avresti preferito un'agenzia con l'Agi? Ma no, probabilmente era il modo migliore per arrivare a tutti e spegnere ogni forma magari di pettegolezzo, di ceria. Ora i social hanno questo ruolo, i politici li sanno utilizzare molto bene, non è questo il caso, ma tanti politici usano magari anche la loro vita privata per fini elettorali. Non è chiaramente questo il caso, penso che le sia costato molto. Però appunto, dicevo, in una società come la nostra, mediatica, è normale che lo spazio della vita privata di un politico e di un presidente del Consiglio in particolare è chiaramente ristretto. E quindi doveva farlo, è giusto che l'abbia fatto, insomma. Hanno preparato un filmato per raccontare la loro storia d'amore, quella che fu la loro storia d'amore. Gestendo pubblicamente una crisi profonda, la premier Giorgia Meloni ha annunciato la fine della sua storia con Andrea Giambruno, conduttore, suo compagno da dieci anni e padre della loro bambina, Ginevra. I fuori onda trasmessi recentemente non hanno evidentemente lasciato spazio per chiarimenti o scuse. La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui. Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme. Meloni e Giambruno si incontrano nel 2014 dietro le quinte di un programma tv. Colpo di fulmine. Inizia un serrato corteggiamento da parte del giornalista, poi inizia l'amore. Di lui Giorgia Meloni aveva detto È un padre fantastico, presentissimo, ci alterniamo, ci aiutiamo, ci completiamo. Poi Giambruno fa affermazioni fuori luogo. Poche ore dopo, la premier affida ai social la sua comunicazione. Chiara, breve, asciutta. In pieno stile Meloni. Tutto questo c'è anche una bambina di sette anni, quindi raccontarlo al paese e poi c'è tutto un aspetto privato che molte persone che hanno vissuto la fine di una relazione conoscono benissimo e sanno quanto poi diventa anche difficile farlo. Tutto è partito da dei fuori onda. Carlo, da uomo, da padre, da giornalista, questa mattina quando hai letto il post della Presidente Giorgia Meloni, cosa hai pensato? Guarda, io intanto ho, diciamo, forse sono un pessimo giornalista ma guardo sempre il lato umano come prima cosa. E come sappiamo tutti, quello che avviene nelle coppie, poi lo sanno soltanto le coppie. E a volte nemmeno loro capiscono bene quello che avviene. Quindi la mia è stata una valutazione appunto di una famiglia che si rompeva e oggettivamente non è mai una bella notizia. Dopodiché lo strumento che la Presidente del Consiglio ha utilizzato mi sembra il più opportuno in questo momento perché ha dato delle spiegazioni anche rispetto ai tempi delle cose che sono avvenute. Anche per la comunicazione che lei ha sempre fatto. Cioè è stata molto coerente. Esatto. Quindi ho detto parlo io prima che... Esatto. Nella dichiarazione, io da stamattina avrò letto 500 commenti tra autorevoli commentatori e social. Sì perché tutti sui social, tutti su Instagram, su Twitter, tutti si sono sentiti in dovere di commentare. Però nessuno si è fermato sulla frase che riguarda la loro coppia. Cioè i rapporti si erano divaricati da tempo, ne abbiamo preso atto e più o meno... Quindi le nostre strade si sono divise da tempo ed è arrivato il momento di prenderne atto. Come per dire basta fare questa finta anche tra di noi forse. Evidentemente già la coppia non andava. La vicenda di ieri la conosciamo tutti, questo fuori onda in cui lui si lascia andare ad affermazioni oggettivamente pesanti, forse soltanto alla punta di un iceberg. Ti dico, insomma, io personalmente, ma credo anche, diciamo, mia moglie non mi lascerebbe per delle affermazioni pesanti. Perché quello... Ma no? Ma io non credo. Ma io sì, guarda. Io non credo però, guarda Caterina, perché se c'è solidità in un rapporto... Scusa, dipende dalle affermazioni. Non è un incidente, non è un incidente che provoca la fine di una coppia. Certo, non è un solo incidente, ci mancherebbe. Si sopportano tante cose, tradimenti, bugie, eccetera. Voglio dire, un'affermazione pesante è la punta dell'arrivo. Il Consiglio dei Ministri non è una donna comune o una... Certo, certo. No, perché do la parola a Rita, perché sono mimimi, albero Rita. Ma sì, ma anche io penso che probabilmente fossero in crisi da tempo, perché appunto concordo, non si interrompe una relazione con una bimba di sette anni, pur con tanti problemi, quindi credo che fossero in crisi da tempo. Detto questo, da parte sua, cioè, considera anche che sei il compagno del Presidente del Consiglio e quando si ha un ruolo pubblico... L'avremmo messo in difficoltà così tanto il marito? Beh, però nella storia è successo, non è che non è successo, diciamo, di donne che avevano messo in difficoltà i mariti. Ci sono anche donne che invece hanno sopportato, mi ricordo Hillary Clinton che ha sopportato un tradimento poi all'ese del marito e ci è rimasta insieme... No, scusami, ho parlato di donne che hanno messo in difficoltà il marito che aveva un ruolo istituzionale, di donne che hanno messo in difficoltà il marito con un ruolo istituzionale. Non in Italia, sicuramente. Il marito di Merkel, scusate, fino alla fine è stato a suo posto e poi si sono lasciate quando è finita la loro relazione. Hillary Clinton aveva subito... Assolutamente sì, ti sto dicendo che però, insomma, intanto dobbiamo fare un discorso di base, non è perché siccome lui, diciamo, è il marito della Presidente del Consiglio poi deve finire di vivere, diciamo. No, ci mancherebbe. Cioè, nel senso, lui faceva il giornalista, faceva determinati lavori, poi c'è un'opportunità o meno, eccetera, ma certo non gliela può imporre la moglie. No, ci mancherebbe. Ho il marito in casa, in casa contraria. Oggi all'estero i giornali internazionali parlano di questo, guardate. Tutta la stampa estera segue da vicino gli sviluppi della crisi familiare di Giorgia Meloni e del suo compagno. Ed ecco che i quotidiani un po' in tutto il mondo, nel dare l'annuncio della notizia, descrivono più o meno all'unanimità i commenti di Gian Bruno come osceni o sessisti. La separazione di Giorgia Meloni e Andrea Gian Bruno diventa dunque, in poche ore, una notizia di rilevanza internazionale. Ci stiamo accalorando anche nel fuorionda, diciamo. No, perché poi ognuno ha i suoi pensieri. La verità è che poi c'è una famiglia che non è più una famiglia e ci sono gli impegni istituzionali che vanno avanti, già non facili. Assolutamente. Con una bambina e con tutte le persone che poi ne parlano, lo stiamo facendo anche noi. Infatti bisogna assolutamente, chiaro che adesso sono ore concitate, poi questa bambina va assolutamente protetta, ma pure lì Giorgia Meloni è stata molto chiara, padre esemplare, un padre perfetto, quindi diciamo questo rapporto continuerà a vivere, diciamo, in maniera... Però posso, io non concordo sul fatto che lei dovesse dirgli come comportarsi, perché per rispetto del ruolo della compagna, oltre che per rispetto per la giornalista in studio, perché qua parliamo di una mancanza di rispetto e affermazioni inopportune, appunto, in fuori onda, peraltro sapendo di essere registrato questo... Mettendo in difficoltà una collega. Appunto, quindi comunque sia, se si ha un ruolo, anche se di riflesso, come nel suo caso, comunque anche lui un giornalista, un personaggio pubblico, è chiaro che viene associato alla Presidente del Consiglio, quindi secondo me invece è giusto che quando si ha un ruolo pubblico ci si comporti in un certo modo, insomma. Ma io non sto dicendo che non è così, non sto dicendo che non è così, sicuramente lui è stato perlomeno leggero volete essere buoni, sto dicendo semplicemente che un rapporto non finisce perché hai sbagliato delle prassi. Questo però Carlo, questo è ovvio, questo però è ovvietà, scusami. Un rapporto già deteriorato, come lei stessa. Ci sono anche delle cose precedenti, ma io spero di non parlarne più di questo tema, da donna, da mamma, sinceramente ora sono fatti loro, certo riguarda anche il nostro paese, però la Presidente continuano a fare il suo lavoro. Caterina, attenzione, pure è qui. La notizia è del giorno e noi l'abbiamo dovuta fare. No, 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 attenzione, però noi siamo qui, parliamo di cose nostre, se qualcuno valuta o giudica o commenta quello che noi diciamo, perché lo scegliamo noi di avere un ruolo pubblico e di fare delle cose. Bisogna anche sapersi comportare, Carlo. Non c'è dubbio, la Presidente del Consiglio, che ha un ruolo pubblico, il più importante di tutti, ha scelto lei di fare questo comunicato e quindi naturalmente noi ci ritroviamo qui e anche le persone commentano questa cosa. Cioè non è un agguato, come dirti. Ma ci mancherebbe. Non è un agguato a parte di nessuno. Ecco, tutto qui. Grazie Carlo, grazie direttrice di essere tornata qui alla volta buona, quando vuoi ti aspettiamo. Grazie. Grazie.